Ciao ragazzi, siamo tornati con le nostre interview. Oggi abbiamo un super special guest, Andrea di Enel, che ci racconterà un pochino del suo lavoro, di che cosa si occupa. E' molto interessante, quindi abbiamo deciso di fare questa interview proprio per darvi uno spunto in più su quello che possono essere anche dei, diciamo considerarlo un po' un lavoro del futuro, anche se in realtà esiste già, però è un lavoro molto molto interessante sull'innovazione. Quindi Andrea ci presenti un attimo, vabbè, Enel, le company values, giusto un intro che non servirebbe perché tutti conosciamo Enel, però insomma ci fa piacere. Ciao Anita, innanzitutto grazie per ospitarmi, davvero è davvero un piacere. Ciao a tutti, io sono Andrea Sguazzi e attualmente sono l'innovation hub manager del gruppo Enel per il nostro innovation hub che abbiamo a San Francisco, in California. Enel sì, la conoscete tutti, però specialmente in Italia magari a volte se ne ha una visione un po' ridotta. Enel è in realtà attualmente una delle più grandi utility, elettriche utility al mondo, la più grande utility per quanto riguarda il parco di generazione di energia rinnovabile, il più grande operatore al mondo per reti di distribuzione elettriche e abbiamo circa 65 milioni di clienti sparsi fra Europa, Latina America e Nord America, Africa, Asia, Oceania, quindi diciamo siamo un'azienda molto grande e molto distribuita geograficamente. Quello che è la nostra filosofia, la nostra mission è we empower sustainable progress, quindi l'idea che l'energia, in particolare l'energia rinnovabile, l'energia pulita, sia al centro di un modello di progresso sostenibile con cui possiamo migliorare il mondo. Da questo derivano anche un po' quelli che sono i nostri valori, che sono fiducia, in primis fra noi, i nostri clienti, i nostri fornitori, quindi l'idea di avere un modello di business che sia trasparente e che possa portare i nostri stakeholder a fidarsi di noi completamente. Responsabilità per prendere appunto piena responsabilità di quelli che sono i grandi problemi che dobbiamo affrontare al momento del settore dell'energia e al centro di alcune delle sfide principali globali, non climate transition, altre cose anche, just transition. Assolutamente. E quindi responsabilità per affrontare tutti questi problemi. Innovazione, perché abbiamo scelto di fare delle innovazioni uno dei valori fondanti della nostra azienda e proattività, perché siamo convinti che non possiamo sostanzialmente risolvere questi problemi e adempere la nostra missione limitandoci a fare il compitino. Ottimo. Grazie mille per questa intro. Ora passiamo un attimo al tuo percorso, perché per i nostri ragazzi quello che interessa maggiormente è capire un pochino che cosa c'è dietro questo tipo di lavoro. Quindi qual è stato un pochino il tuo percorso scolastico e come hai trovato questo tipo di lavoro? Certo. Allora, innanzitutto diciamo che accademicamente non sono il prototipo dello studente perfetto. Io sono entrato in Ene perché al termine della mia laurea trennale, dove ho studiato economics alla Bocconi, mi ero reso conto sostanzialmente che volevo cambiare la mia strada professionale, che la ricerca, piuttosto che il mondo delle banche centrali, non faceva esattamente per me e quindi ho cercato un'opportunità di internship all'estero, perché era sostanzialmente quello che il tassello che mi mancava per completare il mio curriculum ed essere accettato per la specialistica che avevo in mente. Quindi ho trovato, ho guardato aziende italiane che offrivano internship all'estero e ho trovato una posizione per Enel in Slovacchia, all'interno dell'area mercato, quindi sostanzialmente all'interno dell'area vendite. Così sono entrato in azienda, ho fatto un breve stage di cinque mesi e al termine del quale ho lasciato l'azienda per andare a fare il mio master, dove poi ho studiato in Olanda international management, però questa cosa si è rivelata molto utile perché la persona che era il mio supervisore, diciamo, durante la internship, quando io ho finito il mio percorso di studi, stava in quel momento formando un team e quindi ho avuto l'opportunità di andare a lavorare direttamente con lui e quindi sono anche stato assunto da Enel direttamente all'estero, una strada un po' particolare di solito per una persona italiana come me. Bellissima questa cosa, no? Anche di avere un tutor o comunque un'esperienza come un internship alla fine ti fa poi approdare a quello che può essere effettivamente poi un futuro lavoro, quindi è una cosa che magari da dire ai ragazzi che è molto importante di non considerare un internship come un'esperienza a sé stante, ma di considerarlo proprio un punto di partenza perché con le connessioni che puoi fare all'interno di questo tipo di esperienze sono veramente, ti possono portare e aprire porte che magari non avevi immaginato se potessero aprire, ecco, questo è stato anche il tuo caso, no? Assolutamente, ma guarda, noi in realtà diciamo le internship sono un po' di due tipi sostanzialmente, o ci sono internship curricolari, cioè in cui abbiamo studenti specialmente di materia STEM che vengono a fare un internship da noi perché magari stanno facendo una tesi di ricerca e quindi fanno la ricerca in azienda, no? Certo. E in questo caso ovviamente l'intership è finalizzata al loro completamento della tesi o facciamo internship finalizzata all'assunzione, quindi anche l'opportunità di internship sostanzialmente deriva da quello che sappiamo essere la nostra possibilità poi di assumere qualcuno. Chiaro, quindi le internship di solito quanto durano? Allora, dipende perché lavorando in più di 30 paesi ogni paese ha un regime a sé stante, posso dire l'esempio italiano che è quello che conosco un po' meglio, normalmente durano intorno ai sei mesi e hanno appunto quelle due caratteristiche che ti dicevo. Ok, ottimo, ottimo. Ok, adesso possiamo un po' a spiegare qual è la tua posizione, ma che cos'è un innovation manager? Ok, allora, guarda, l'innovation manager può essere tante cose, specialmente a seconda dell'azienda in cui lo si fa. Diciamo in generale l'innovation manager è una persona che si occupa di introdurre l'innovazione all'interno della propria azienda, ok? Per come lo faccio io, quindi all'interno di un'azienda molto grande e che quindi ha un'organizzazione di innovazione molto ampia e molto sofisticata, il mio ruolo è trovare startup e potenziali disruption all'interno del mio ecosistema, che è quello californiano, San Francisco, Bay Area, ma in generale anche Southern California, West Coast degli Stati Uniti, diciamo, e mettere in contatto queste startup con i miei colleghi delle nostre aree di business, di modo che possiamo introdurre innovazione all'interno della nostra azienda o creare assieme nuovi prodotti e nuovi servizi. Ottimo. Beh, chiarissimo direi. Che skills deve avere un innovation manager, in termini di soft skills ma anche hard skills? Bella domanda. Allora, diciamo che partiamo dalle soft skills. L'innovation manager deve essere, secondo me, di principio una persona curiosa, perché è difficile che uno possa riuscire a essere innovation manager occupandosi di una cosa specifica. Quindi io lavoro per un'azienda che fa energia, ma faccio innovazione in tutti gli ambiti dell'azienda, anche per tool di finance, anche per tool di comunicazione. Quindi è impossibile che tu sappia tutto per il tuo background, devi avere la voglia e anche il piacere ogni volta di diventare non un esperto, perché non è possibile, ma di educarti in quella cosa che stai cercando in quel momento per poter avere un profilo più orizzontale. Questo è sicuramente a livello di soft skills una cosa importante. L'altra cosa importante è essere in grado di fare network e farlo in maniera positiva, che è una cosa che specialmente, secondo me, come italiani, facciamo in maniera molto difficile. Gli anglosassoni su questo ci danno proprio una pista. Quindi queste sono, secondo me, le due soft skills principali. Un'altra è una cosa a metà fra una hard skills e una soft skills, ed è la conoscenza dell'azienda, perché quando tu vuoi portare innovazione a introdurre qualcosa all'interno della tua azienda, è fondamentale conoscere le persone e il business, in modo che l'innovazione non sia una cosa a sé stante che si fa in una torre d'avorio e dice ah, voi fate le cose sbagliate, non avete capito niente, e d'ora in poi si fa così. Invece tu devi essere in grado di poter portare valore direttamente all'interno del business per favorire il fatto che l'innovazione diventi business as usual il prima possibile. Per quanto riguarda le hard skills, dipende molto da in quale parte dell'innovation value chain si lavora. Se guardiamo all'innovazione come quasi cosa a sé stante, ci sono un sacco di skills specifiche che possono essere design thinking, lean innovation approach, sessioni di creatività, ci sono metodologie di innovazione, di gestione del portafoglio, ci sono un sacco di cose che possono costituire il bagaglio di hard skills di un innovation professional. E questo è un innovation professional più trasversale. Poi ovviamente se invece guardiamo un innovation manager che magari si occupa di una tecnologia specifica, perché fa progetti pilota e ricerca su una tecnologia specifica, le hard skills devono essere quelle molto specifiche su quella tecnologia. Certo, assolutamente. È bellissimo il tuo lavoro, perché comunque vai a conoscere startup e innovazione sotto tutti i punti di vista praticamente ogni giorno, quindi sei super aggiornato sulle tecnologie, sulle novità, ecco, in ambito innovativo, non solo quindi specifiche, poi come dicevi, del tuo settore. Assolutamente sì, da questo punto di vista sono molto fortunato ed è anche, diciamo, una cosa importante, perché l'innovation manager non può semplicemente limitarsi a cercare o trovare quello che già sa che sta cercando. Io non posso, il mio lavoro non finisce dove i miei colleghi mi dicono ah, mi serve una tecnologia che abbatta i costi dell'idrogeno verde. Devo anche stare attento a cogliere cosa accade nell'ecosistema, nel mondo accademico, ma anche nel mondo delle startup, degli acceleratori, che magari non stiamo cercando, ma può avere un grande impatto su di noi e può essere potenzialmente una disruption. Ah, questo è molto interessante, perché effettivamente una persona pensa io ho bisogno di questo e quindi lo vado a cercare, invece, no, può essere che magari c'è qualcosa a cui una persona ha pensato, magari una startup del Sud Corea sta lavorando, che potrebbe essere un'innovazione ottima da applicare per Enel, ad esempio. È esattamente così, guarda, infatti anche, diciamo, a livello accademico negli ultimi anni si sono scritti diversi paper su come funziona l'innovazione a livello corporate, dopo che, diciamo, il professor Cesboro ha un po' sdoganato l'open innovation come tema proprio di ricerca accademico, c'è stato un filone che si è espanso, e se guardi, negli ultimi tempi è emerso questo tema delle innovation antennas, cioè, essenzialmente, quello che deve fare una persona come me è essere un'antenna all'interno dell'ecosistema, captare quello che succede e cercare quello che già sappiamo che ci serve. Ci spieghi un attimo che cos'è un'antenna, perché forse i nostri ragazzi non sanno di cosa stiamo parlando, giusto veramente, guarda, le due parole. Allora, tipicamente, e la Silicon Valley, penso sia l'ecosistema in cui ce ne sono di più al mondo in assoluto, le grandi corporate creano un ufficio, che si chiama Innovation Outpost, che svolge la funzione di Innovation Antenna, cioè, è un ufficio piccolo o grande a piacere, dipende dall'organizzazione, che si situa all'interno di un ecosistema che viene ritenuto interessante e ha lo scopo di captare i segnali che emergono all'interno dell'ecosistema, ok, ed è qui il nome poco fantasioso di Antenna, e appunto di cercare quello che invece già si sa essere un problema o una sfida tecnologica. Perfetto, sei stato chiarissimo. Allora, ma ci racconti anche una giornata tipo? Che cosa fai? Che cosa fa, quindi, un Innovation Manager? Ti sveglia la mattina, arrivi al lavoro, e come si gestisce questa giornata lavorativa? Allora, dunque, dipende, la routine personale varia, anche a seconda di quello che il tuo, con i suoi momenti di tua efficienza, no, personale. Diciamo che a me piace la mattina cominciare leggendo newsletter, ascoltando un po' di podcast, argomenti più vari, ovviamente cose legate al lavoro, ti sto dicendo cose legate al lavoro, quindi ci sono fortunatamente ormai diversi strumenti che ti permettono nel giro di 4-5 minuti essere aggiornati con gli eventi principali che sono successi in tutto il mondo, perché anche se io mi prendo cura particolarmente dell'ecosistema californiano, magari succedono deal in Europa che cambiano qualcosa e di cui devo essere aggiornato. Quindi quello è l'inizio della mattina. Poi, tipicamente, siccome io lavoro per un'azienda in cui comunque l'headquarter e molte dei miei stakeholder interni sono in Europa, la mattina è dedicata agli incontri che coinvolgono le persone di business e quindi tipicamente non sono incontri conoscitivi, ma sono incontri di secondo o terzo livello in cui presentiamo una startup, magari abbiamo già firmato un NDA, stiamo già discutendo il framework di un possibile progetto pilota e si entra nei dettagli coinvolgendo le persone tecniche che lavorano nelle mie linee di business. Il pomeriggio, normalmente, è più dedicato invece all'esplorazione e quindi sono un sacco di incontri con VC, acceleratori, in cui io racconto quelle che sono le nostre sfide tecnologiche, loro mi raccontano cosa vedono emergere a livello di trend, in quali aziende stanno investendo, quali aziende stanno accelerando e cerchiamo dei buoni match che possano aiutarci appunto a lanciare dei progetti assieme. Oltre a questo, che diciamo è un po' il business as usual, c'è la parte di studio, come ti dicevo prima, in cui leggo articoli e cerco di capire, anche chiedendo ai miei colleghi proprio di spiegarmi come se fossi una persona completamente estranea, il problema che stiamo cercando di risolvere, la tecnologia che stiamo studiando in quel momento e tutta la parte di eventi, di andare a conferenze che è come si cerca di costruire il network. Assolutamente. Ma se si può sapere che tipo di innovazioni ci sono in questo momento nel settore, diciamo, dell'energia? Ecco, giusto per non chiederti tutto perché sarebbe impossibile che un po' fino a domani. Se chiediamo qualcosa sul settore energetico, Enel, su che cosa state investendo di più al giorno d'oggi, se è possibile avere qualche informazione a riguardo. Guarda, il settore dell'energia è un settore che ormai da alcuni anni si sta trasformando completamente. Abbiamo avuto l'ondata delle rinnovabili che ha completamente trasformato quella che era l'industria fino a sostanzialmente quando ho iniziato a lavorare io. Dieci anni fa l'industria era completamente diversa. Adesso che le rinnovabili sono diventate business as usual abbiamo una nuova ondata di tecnologie che sono determinanti. C'è tutto quello che è energy storage e che serve per integrare sempre più rinnovabili all'interno del sistema elettrico, quindi batterie, ma anche altri tipi di stoccaggio di energia come lo storage gravitazionale, lo storage termico e altre cose. C'è l'idrogeno, in particolare l'idrogeno verde, quindi generato utilizzando energia che non ha emissioni, che è un vettore energetico molto importante che potrebbe aiutarci a risolvere alcuni problemi in settori dove l'elettrificazione diretta non è possibile, i cosiddetti hard to abate sectors che sono acciaierie, cementifici, trasporto a lungo raggio, questo tipo di industrie. E poi c'è, molto importante, specialmente per noi, il tema della sostenibilità e quindi di nuovi materiali, perché vogliamo che qualsiasi nuova innovazione introduciamo all'interno del nostro business sia sostenibile e quindi le paleoliche siano fatte con materiali reciclabili, abbiamo tecnologie affidabili per reciclare i pannelli solari, abbiamo tecnologie per riutilizzare le batterie, che per esempio è una cosa che stiamo vedendo i primi piloti in questo momento, quindi le batterie che una volta finite di essere usate all'interno dei veicoli elettrici, possono essere usate per storage stazionario e aiutarci a usare più energia rinnovabile. Wow, super, bellissimo e meno male perché veramente ne ha bisogno questo, l'ambiente, no? E' la nostra terra di energia rinnovabile, di energia pulita, diciamo. e direi di chiudere, ti faccio l'ultima domanda più chiaramente legata all'internship, visto che comunque i ragazzi spesso sono interessati, se ci sono delle posizioni di internship disponibili in questo momento, chiaramente consigliamo ovviamente di andare sul sito dell'Enel a cercarne, ma se tu ne conosci qualcuno, magari anche in Silicon Valley o comunque nella tua zona e se sì, che tipo di profilo viene ricercato? Quindi ragazzi, che tipo di profilo dovrebbero avere? Può essere anche magari come il tuo, più economico e riuscire lo stesso ad entrare a lavorare insomma nell'ambito innovazione? Certo. Allora, diciamo innanzitutto la maggior parte delle internship che conosco sono in realtà nelle aree di business e il motivo è doppio. Sia perché sono quelle che devono crescere di più, noi abbiamo un piano industriale che prevede una fortissima crescita e quindi le persone cerchiamo di assumere nelle aree che devono crescere di più, quindi reti intelligenti, costruzione di nuovi impianti e tutta la serie di servizi energetici avanzati per il cliente, quindi la maggior parte delle internship che conosco sono lì. L'innovazione può essere un secondo passo, quindi come ho fatto io se guardi per esempio il mio percorso in azienda ha molto senso cominciare dal business e poi spostarsi in innovazione perché arrivi con un background e una conoscenza interna nell'azienda. Detto ciò, se uno volesse provare direttamente per l'innovazione e la sostenibilità ci sono quel tipo di internship che ti dicevo, quindi proponendo un progetto di ricerca sostanzialmente è più diciamo un approccio outreach da parte dei ragazzi, dovrebbero scrivere e dire io vorrei fare la tesi su questo perché mi laureo in questo e quest'altro. I profili che cerchiamo sono veramente ampi, le materie STEM la fanno sicuramente da padrone ma ci sono anche cose a disposizione per chi non ha una laurea, quindi i diplomati magari da istituti tecnici sono sicuramente persone ricercate, per chi invece ha un tipo di educazione universitario, ingegneri meccanici, ingegneri elettronici, i meccatronici che sono oro colato ovunque si trovino, ingegneri ambientali, ingegneri energetici, insomma, siamo una società che non può fare a meno di ingegneri ma ci sono anche profili diciamo più moderni, ok, che magari non ti aspetteresti da un'azienda tipo Ene come data scientist, programmatori, quindi veramente il portfolio di capacità che possono essere interessanti per un'azienda come la nostra è ampissimo. Ok, quindi consigliamo ai ragazzi che se vogliono girare il mondo e vogliono trovare un internship che potenzialmente possa anche portarli a fare una carriera internazionale come la tua perché poi alla fine adesso tu sei a San Francisco in Silicon Valley hai iniziato mi dicevi scusami in Slovacchia in Slovacchia ci sei mosso anche in qualche altra destinazione prima di San Francisco tra la Slovacchia? No, ho fatto otto anni in Italia anche perché c'è stata la pandemia di mezzo che non ha aiutato però in generale sono tante le opportunità specialmente per chi ha delle competenze linguistiche importanti quindi magari parla non solo l'inglese ma anche lo spagnolo abbiamo un sacco di country in cui è possibile andare a fare esperienze meraviglioso perfetto allora guarda Andrea ti ringrazio tantissimo ragazzi se avete piacere potete guardare quindi sul sito dell'Enel magari se vuoi lasciarmi eventualmente il link io lo metto qui sotto in descrizione così i ragazzi hanno il link diretto possono andare a guardarsi tutte le opportunità di internship con Enel in giro per il mondo e speriamo di avervi dato diciamo qualche informazione in più cos'è un innovation manager e anche magari un'idea su quello che può essere un lavoro diverso ok grazie Anita è stato davvero un piacere grazie a te ciao ragazzi alla prossima ciao 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 ciao